Potrebbe essere Biagio Meccariello uno dei principali rinforzi per la difesa del Pescara, originario di Benevento, da cinque anni milita nella Ternana e nelle ultime stagioni ne è diventato il perno della retroguardia. Oltre 120 presenze con la maglia delle fere con cui Meccariello ha altri due anni di contratto. Per trattare con la società lo staff del Delfino dovrà comunque attendere l'esito della trattativa che potrebbe portare l'unico usano a rilevare il club rosso-verde che da tempo non naviga in acque tranquille dal punto di vista economico. Se Meccariello è un nome appetito da Zeman è altrettanto vero che la pattuglia di centrali bianca-azzurri è ricca e bisognerà di smetterne. Tra questi chi ha più chance di restare è Michele Fornasier per caratteristiche, età e durata del contratto. Se trovare mercato per i centrali bianca-azzurri può non essere semplice, discorso diverso per i terzini, in particolare Cristiano Biraghi che ha su di sé gli occhi di diversi club di Serie A. In particolare sono Bologna e Udinese ad essere in vantaggio sul difensore milanese sul quale però c'è anche l'interesse della Sampdoria. Biraghi è uno di quei giocatori che possono garantire una buona plusvalenza da realizzare entro il mese di giugno per esigenze legate alla chiusura del bilancio. A centrocampo ci sono altri profili che potrebbero garantire plusvalenze, in particolare il capitano Leian Memushai su cui è sempre vivo l'interesse del Bologna ma ora anche la neopromossa Spal sta facendo un pensierino. E poi Gaston Brugman anche se l'uruguayano si è fatto apprezzare da Zeman nelle ultime uscite e potrebbe essere un giocatore da cui ripartire per la prossima stagione. Stagione nella quale in cadetteria non ci sarà il benevento dell'ex Marco Baroni che ieri battendo il Carpi nella finale di ritorno ha centrato la prima storica promozione assoluta in Serie A. Mentre proprio un anno fa, 9 giugno 2016, proprio il Pescara festeggiava la promozione nella massima serie con il pareggio di Trapani, una data ben impressa nella mente dell'ex tecnico Massimo Oddo che su Instagram stamani ha postato una foto dei festeggiamenti dello stadio provinciale scrivendo «uno dei giorni più importanti e indimenticabili della mia vita». Oddo, ancora sotto contratto col Pescara, potrebbe a breve trovare una nuova sistemazione in Serie B e in pole position per la panchina del Frosinone, quella del Bari in alternativa.